parte Totti deviazione a Francesco Totti 2 a 1 per la Roma al 44esimo deviazione decisiva eh sì perché ha calciato dito per dritto adesso la rivediamo sì sì decisiva la deviazione di figo mi sembra quello che perché da pure quello che va incontro di figo quello che doveva uscire pensa eh lo so tante volte il calcio è veramente strano veramente strano il calcio 2 a 1 per la Roma dunque al 44esimo con il 21esimo gol di Totti in campionato 24esimo stagionale il record di Totti in Serie A Susanna Venge mi sono perso quel nome la chiamiamo Ronaldini a un'altra volta chiamiamola Susanna